Grazie Presidente, società e tutti perché mi hanno voluto fortemente e non ho avuto dubbi. Ho avuto il piacere di conoscere già i miei compagni, il mister già conoscevo, quindi le sensazioni sono buone, ho visto un gruppo che si è unito, anche dall'ultima partita ho visto che c'è una bella sintonia, quindi ci sono tutti i propositi per fare un buon risultato, sappiamo qual è il campo che parla, bisogna stare concentrati e affrontare ogni partita come se fosse l'ultima. Penso che poi il nostro mister questo sape cosa voglia dire e penso che abbia già messo una bella impronta in questa squadra. Il mister comunque mi conosce abbastanza bene, sa quello che posso dargli in fase magari un po' più di offensiva, anche la fase difensiva come stare attaccato all'uomo, quindi penso che con le giuste indicazioni posso fare le fasi fatte abbastanza bene. Non vedo l'ora di iniziare perché ho tanta voglia di rimettermi in gioco, che sono venuto da anni un po' faticosi così, però adesso sto bene, ho proprio voglia di giocare, di aiutare la squadra a far bene, l'importante è che regniamo tutti dalla stessa parte.